È ufficiale, la WWE è stata venduta e a comprarla, come vi ho anticipato ieri, è Endeavor, una società che opera a livello mondiale nel campo dello sport e dell'intrattenimento. Sul loro profilo Twitter che state vedendo c'è proprio l'annuncio, un agreement, un accordo che mette in una stessa compagnia, sotto una stessa direzione, sia la WWE che la UFC, la principale lega al mondo di arti marziali miste. Un conglomerato che vale sul mercato 21 miliardi di dollari. Attendiamo tutte le cifre dell'operazione e iniziamo, e sto iniziando già a elaborare le mie opinioni. Tra poco però ho una sessione di telecronache e quindi ve le dirò quanto prima. Però ragazzi potrebbe cambiare tanto, perché Vince McMahon uscito dalla porta per lo scandalo che vi ricorderete, legato ai pagamenti, alle sue scappatelle amorose per sottacere di quelle relazioni, Vince McMahon potrebbe rientrare dalla finestra, riprendendosi parte di quel potere che per certi versi aveva dovuto cedere, ma che dissoppiato e silenziosamente aveva già riassorbito una volta che è rientrato. E quindi si torna a lui che tira i fili, ma attenzione, perché la federazione perde quella connotazione di dinastia, di passaggio familiare, non ereditario, non necessariamente ereditario, perché Vince l'ha comprata dal padre, ma che pareva indissolubile. Il lascito della WWE a Triple H o a Stephanie sembrava, o è sembrato per tanti anni, la mossa giusta, naturale, e invece qua no. No, certo, quelli che ho nominato potrebbero essere assunti e implementati una volta che Vince si farà da parte e rimanere già adesso nel loro posto di lavoro, perché l'acquisto della WWE presuppone anche l'acquisizione di tutti i contratti in essere, per quanto ne sappiamo ora. Però la WWE non è più un oggetto della famiglia McMahon. Vince dovrebbe restare direttore del ramo wrestling, in qualche modo, executive, con i suoi collaboratori, Khan principalmente, sempre lì a tirare le fila, però quando non ci sarà più, speriamo il più tardi possibile, la WWE non è più roba della famiglia McMahon. Salvo cambiamenti, acquisti di azioni, scorpori, eccetera, eccetera, però ad oggi la prima cosa che salta all'occhio è questa. Per le altre, se volete anticiparmi, se avete un po' di sale in zucca per queste questioni, che non sono per nulla semplici, beh, qui sotto avete lo spazio per scrivere la vostra.